L'avete preso? Carote e carottine Carote? Ma non ti piacciono se le carote Lucchetto offerto dalla Ciclo Time Bici Elettrica Lo diamo a tutti siccome ho fatto la fiera qui ne ho un po' in macchina per tutti si ho un po' di lucchetti in macchina li regaliamo col biglietto da visita invece di fare pubblicità in tv facciamo così la gente si ricorda magari quando fra un anno o due deve prendere una bici elettrica si si infatti o ricambi di batterie hai capito? un pensiero della Ciclo Time noi facciamo un investimento piuttosto di fare pubblicità sui giornali a chi ci piace magari ne presenta gente un buon gesto un buon gesto per lavorare come te hai roba buona no? roba buona anche lui mette un po' più di verdura paghi poco qui a Chioggia posto meraviglioso per andare all'isola verde ti ho detto di portarti via da vestire ecco allora qual'è il problema? ti chiudi a casa a Rovigo non c'era questo vento? ma non sei a Rovigo sei a Chioggia qua a Lilli si meraviglia del vento guarda lui maniche corte ma pure di dolori questo vento buono non fa dolori non è umido no no però non è una montagna No, 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 no.